La procura della Repubblica dell'Aquila ha nominato un perito per acquisire nuove informazioni sull'incidente aereo che sette giorni fa ha visto lo schianto di un elicottero del 118 sul monte Cefalone, nel territorio di Lucoli, causando la morte di sei persone dopo aver soccorso un turista che si era infortunato sugli sci nella stazione di Campofelice, anche egli deceduto. Il perito potrebbe fare un sopralluogo sul luogo della tragedia unitamente al pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Simonetta Ciccarelli. Secondo quanto appreso da fonti dei soccorritori, sulla base dei primi rilievi e su come sono stati trovati i rottami del velivolo a tragedia appena avvenuta, una frazione prima di schiantarsi il pilota si sarebbe accorto della rotta sbagliata e avrebbe provato a correggerla rialzandosi di quota senza tuttavia riuscire a evitare l'impatto con la montagna a quota circa 2000 metri. Secondo le prime risultanze inoltre l'inchiesta potrebbe concludersi senza alcuna iscrizione nel registro degli indagati in quanto gli unici possibili profili da approfondire potrebbero rivelarsi essere a vario titolo quelli delle persone che erano all'interno dell'elicottero al momento dell'incidente dove tutti hanno perso la vita. Allo studio degli investigatori ci sono anche i filmati circolati sui media e sui social network all'arrivo del velivolo nella stazione di Campo Felice. Si nota in particolare che il motore non sarebbe stato spento, al contrario di quanto avviene normalmente quando si effettuano gli interventi, possibile sintomo di una certa sollecitudine del pilota nel voler ripartire per tornare all'ospedale San Salvatore dell'Aquila al più presto, viste le complicatissime condizioni meteo e la scarsa visibilità. La rinuncia era nell'aria, ora è ufficiale. Il Comune dell'Aquila non aderirà alla rottamazione delle cartelle di Equitalia che il Governo ha allargato a tutte le multe stradali e tributi locali dei Comuni. Ieri era l'ultimo giorno utile per approvare la delibera di adesione, ma nella riunione di giunta la questione non è stata messa nemmeno all'ordine del giorno. I conti purtroppo non ce lo permettono, dice senza troppi giri di parole l'assessore al bilancio Giovanni Cocciante. Le minore entrate, che sarebbero risultate dalla rottamazione, sono state già iscritte al bilancio e non abbiamo altri margini di manovra e siamo fermi nella volontà di non aumentare le tasse. A pesare insomma la poca o nulla disponibilità di cassa a causa della riduzione dei trasferimenti statali nell'ultimo mille proroghe da 16 a 12 milioni di euro, 4 milioni di euro in meno insomma, le spese straordinarie per l'emergenza neve e sisma che ha determinato uscite ulteriori. Insomma non è tempo per gli Aquilani per fare sconti alle multe stradali e ai tributi locali pagati in ritardo. A volte ritornano. Parliamo di una delibera che il Comune dell'Aquila varrò all'indomani del sisma del 2009, la numero 58, che consentiva ai privati di far fronte all'emergenza abitativa costruendo abitazioni provvisorie e le cosiddette casette in legno, anche su terreni agricoli e sui quali in precedenza vigeva il divieto assoluto di edificabilità. Una norma che ha portato in alcuni casi avveri e propri abusi e che ha causato la nascita di migliaia di abitazioni sull'intero territorio comunale. Alcune di queste, nelle intenzioni dell'amministrazione, sarebbero da battere, visto che di condoni e sanatorie all'orizzonte non c'è neanche l'ombra. Ma finora questi abbattimenti programmati non ci sono stati, mentre è ancora acceso il dibattito sull'opportunità o meno di consentire nuovamente di costruire nuove abitazioni in legno alla luce dei recenti eventi sismici. Il rischio sismico con cui le nostre popolazioni dovranno forzatamente convivere ci spinge a chiedere la riattivazione, alla luce delle nuove normative, delle delibere che consentono ai cittadini di realizzare piccole strutture in legno, per esempio la delibera 58, dove chi ne ha necessità può trovare ricovero in case di eventi purtroppo già vissuti. A chiederlo sono i consiglieri comunali dell'Aquila, dell'Italia dei Valori, ma fuoriusciti da tempo da quel partito, Giuliano Di Nicola e Adriano Durante, che si presenteranno le prossime elezioni nella civica di sinistra, democratici e socialisti. Un appello che assume peso perché di Nicola è anche consigliere comunale di maggioranza con delega specifica alla protezione civile, mentre l'assessore Pietro Di Stefano da sempre sostiene che non è possibile ricominciare a costruire manufatti temporanei, se non con legge nazionale e comunque bisogna guardare più alla ricostruzione delle case sicure che a nuove installazioni temporanee. Inoltre proseguono i due consiglieri, se il legislatore nazionale supportato dall'amministrazione comunale lo riterrà opportuno, andranno oramai considerate patrimonio di inizio permanente tutte quelle casette di legno che hanno rispettato i parametri e le normative dell'epoca. Secondo Di Nicola e Durante è sotto gli occhi di tutti l'importante servizio reso da queste strutture in occasione delle sequenze sismiche che si sono succedute dal 24 agosto a oggi. Questa nostra richiesta, spiegano, è dettata dalla necessità e dalla preoccupazione di evitare lo spopolamento della città, rischio concreto e reale alla luce dei recenti accadimenti.